Ciao a tutti ragazzi, nel corso degli ultimi giorni e delle ultime settimane abbiamo provato a consigliarvi quelli che sono per noi i videogiochi assolutamente da recuperare in questo periodo d'emergenza in cui siamo costretti per ovvie ragioni a rimanere a casa. A dire il vero recentemente Yuri vi ha già raccontato i giochi da 30 ore o più da giocare assolutamente, ma ovviamente non tutti abbiamo il tempo e non tutti abbiamo voglia di metterci lì a giocare giochi di ruolo open world con una durata così lunga. Ragione per cui oggi ho deciso di parlarvi dei giochi un po' più corti, quelli leggermente più lineari che non significa che non siano comunque aperti a livello proprio di gameplay, però giochi un po' più corti, dalle 10 alle 20 ore. Ce ne sarebbero veramente tantissimi, migliaia, però io ho deciso di selezionarne solo 5, quelli compresi nell'ultimo anno, quindi neanche tanto vecchi, quindi abbastanza recenti per dare modo anche a chi non li avesse ancora acquistati di farci un pensierino e magari di pensare di recuperarli durante questo periodo. Giochi che potrete acquistare sia negli store digitali sia su Amazon fin quando insomma il servizio lo permetterà. Partiamo subito da un capolavoro, Resident Evil 2, si tratta del remake del classico del 1998 uscito originariamente per PlayStation 1 e anche per altre piattaforme come PC e Gamecube. Come ho già detto si tratta di un vero e proprio remake, Capcoms è davvero impegnata tantissimo, lo ha rifatto completamente dal level design al comparto grafico al gameplay, insomma lo ha rivisto in todo. Si tratta di un gioco unico, un horror incredibile che ovviamente è rimasto nella storia e anche il remake mi sa che rischierà di rimanerci perché è veramente un gioco incredibile. Non dura poco, attenzione, perché il gioco potrebbe occupare anche 30 ore del vostro tempo, ma se voi vi concentrate sulle due storie principali di Claire e Leon, allora potrebbe durarvi intorno alla dozzina di ore. Un tempo più che sufficiente, più che soddisfacente per godersi appieno il titolo. Se poi voleste completare il gioco al 100%, sbloccare le munizioni infinite, giocare anche, giocare tutte le storie opzionali, allora è vero effettivamente il titolo potrebbe occuparvi molto più tempo, ma qui parliamo di giochi da finire dalle tra le 10 e le 20 ore, quindi giocate le storie principali e ve lo godrete appieno. Tra l'altro il 3 aprile uscirà il remake del terzo capitolo, quindi approfittate dell'occasione per recuperare questo incredibile videogioco e capolavoro perché potrebbe anche farvi venire l'acqua lì in bocca per il terzo capitolo. E passiamo ora a un gioco che sicuramente molti di voi staranno giocando in questo periodo e che abbiamo tra l'altro recensito da poco, si tratta di Doom Eternal, l'FPS migliore della generazione e chiaro candidato al gioco dell'anno 2020. Ovviamente non sarà l'unico, ma lui è uno dei primi sicuramente a essere candidato. Si tratta di un vero e proprio capolavoro FPS, un gameplay frenetico, un impatto visivo da urlo, un gioco incredibile al multiplayer, ha una campagna longeva, tante cose da fare, contenutisticamente è veramente immenso. Un titolo che anche in questo caso potrebbe occuparvi 30, 40, 50 ore a seconda di come lo giocate, ma se vi fissate con la campagna a difficoltà normale allora vi potrebbe intrattenere tra le 12 e le 16 ore di puro frenesia FPS. Quindi prendete in considerazione questa idea, soprattutto se siete amanti degli FPS, questo Doom Eternal è assolutamente un gioco da avere. In questo periodo potrebbe essere veramente interessante perché vi aiuterebbe anche a sfogarvi non poco, ve lo garantisco. Vi ricordiamo che Doom Eternal è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e ovviamente la piattaforma madre, PC. Passiamo ora a tutt'altro gioco molto più leggero, Luigi's Mansion 3, che è un'esclusiva a Nintendo Switch, quindi lo potrete giocare solo su Nintendo Switch. È un gioco molto leggero, il protagonista è Luigi che si troverà in un hotel infestato dai fantasmi e dovrà salvare i suoi amici da Mario a Peach. È un gioco molto leggero, come vi abbiamo già detto, sdrammatizza, certo, mette l'ironia sulla paura, sull'horror. Anche in questo caso è un gioco che potrebbe occuparvi 20-25 ore, ma se voi giocate solo la trama principale senza concentrarvi su tutti i collezionabili, lo potreste anche finire tra le 12 e le 15 ore, quindi un titolo che si lascia giocare senza grosse problematiche. Tra l'altro ha un impatto visivo veramente godibile, forse uno dei migliori sulla piattaforma ibrida di Nintendo, molto colorato e anche molto molto bello da vedere. Passiamo invece ora a un'avventura interattiva, Life is Strange 2. Non è paragonabile al primo capitolo per una serie di ragioni infinite, tra cui soprattutto i protagonisti, ma attenzione perché la storia è veramente toccante, emotiva, coinvolgente e soprattutto tratta dei temi molto importanti e seri, e seri, molto più seri forse rispetto a quelli del primo capitolo, quindi magari non vi coinvolgerà come vi ha coinvolto il primo capitolo, ma sicuramente vi emozionerà ugualmente. La storia vede come i protagonisti i fratelli di Azz 2, fratelli messicani che dopo uno sfortunato incidente di cui non vi voglio raccontare nulla, perché altrimenti rischierei di spolerarvi il gioco, dovranno fuggire verso il Messico. Ovviamente la loro strada sarà piena di ostacoli, piena di personaggi secondari caratterizzati benissimo, si tratta ricordiamo di un'avventura interattiva, quindi le vostre scelte daranno un risvolto negativo o positivo anche al vostro finale. Una delle migliori avventure del 2019 e a questo punto anche il 2020 perché l'ultimo episodio è uscito veramente da poco, quindi giocatelo assolutamente, anche in questo caso lo potete trovare a poco negli store digitali e su PC, approfittatene ragazzi. E infine, ma non per meno importanza, Control, ebbene sì, Control. Attenzione, anche in questo caso si tratta di un gioco che potrebbe durarvi 30-40 ore, ma nel nostro caso abbiamo valutato il titolo pensando alla storia principale e a qualche missione secondaria, in questo caso il gioco potrebbe durarvi proprio 20 ore nette nette nette, a meno che appunto voi decidiate di giocarlo a difficoltà super facile, allora in quel caso arriverete a 13, 14, 15 ore. Comunque è un titolo da giocare. È stato un titolo costruito da Remedy, lo studio finlandese dietro a Max Payne, Hala Wake e Quantum Break, e dietro c'è il maestro Sam Lake. Si tratta del titolo più ambizioso di Remedy, tra l'altro l'avevamo recensito con un voto molto alto, e fra poco uscirà anche il nuovo DLC The Foundation, quindi un motivo in più per acquistarlo per giocarsi anche il DLC. È un titolo veramente molto molto godibile sia dal punto di vista del gameplay sia dal punto di vista grafico, tra l'altro il gioco che su PC sfrutta meglio Ray Tracing ad oggi, quindi è un gioco veramente veramente molto molto bello da giocare. Approfittate l'occasione, anche in questo caso è possibile recuperarlo su Amazon, sui store digitali, sia per PC, sia per le console Xbox One e PlayStation 4. Insomma, fatemi sapere poi che cosa ne pensate di questo titolo. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Come vi ho già detto, me ne abbiamo suggeriti solamente 5 perché ce ne sarebbero davvero un'infinità, migliaia di giochi con questa longevità e con questo tempo di durata. Tuttavia c'è lo spazio riservato ai commenti, quindi qualora voi decidiate di suggerirne altri o comunque fare anche una discussione riguardante i titoli che abbiamo selezionato per voi, sono anche aperto a qualunque tipo di vostra richiesta o domanda. Io appunto risponderò a tutti i vostri commenti qua sotto nello spazio e ovviamente io vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!